Noi siamo per la Parcondicio, Alberto. Allora amici, noi vi diamo appuntamento a lunedì 17 ottobre, subito dopo, naturalmente c'è la pausa, a lunedì non ci saremo, subito dopo Napoli-Parma e il giorno prima di Napoli-Bayern-Monaco. Vi abbiamo preparato un'altra super puntata, voglio ringraziare la voce ufficiale, quella di Raul. Grazie Raul, buonanotte. Tra poco, tra poco la sigla con Monica Sarnelli. Io intanto voglio ripetere le nostre repliche che saranno a mezzanotte, sempre sull'emittente Canale 9, domani alle 21 e alle 23 sul Levante TV e voglio ringraziare coloro che sottolineano ogni lunedì il nostro fascino, Tim Leo, parrucchieri e Susi Maraucci per quanto riguarda invece il Makeup Artist. E naturalmente vi ricordiamo tra l'altro anche, siccome c'è Bruno Ciniglia, il nostro fotografo ufficiale che fa delle foto a tutti voi, li potete vedere già da domattina su brunociniglia.com. Noi vi aspettiamo ovviamente al Teatro San Nazaro, vedo anche una statuetta meravigliosa, siamo ai saluti finali. Cominciamo con un grande preparatore atletico, sono proprio felice che sia venuto a trovarci, mi auguro di rieverlo quest'anno, il professor Giampiero Bentrone. E poi il nostro Macador, Carlo Alvino. Un secondo, prego. Abbiamo fame, c'è il menù già pronto. Allora, c'è un menù pronto, e allora velocemente, sabato sera a San Sera gli interisti, lo chef Mazzari ha servito, paccherola Campagnaro, polpetta Lamaggio, babà Lamzic. E' stato molto bello avere con noi, io l'ho detto l'anno scorso e lo voglio ridire, Alberto Brandi non va mai in nessuna televisione privata in Italia, e mi concede il privilegio da amico di venire qui a Napoli, al San Nazaro, e io lo voglio ringraziare, Alberto Brandi! Grazie per essere venuto, Alberto. Voi. Ogni domenica sera... Ogni domenica sera, mezzanotte e venti, Italia 1 contro campo, vorrei chiamare sul palco Peppe Iodice. Vieni, Peppe, vieni, vieni, vieni. Peppe Iodice, eccolo qua, stai con noi? E poi un grande abbraccio a Paola Mercurio, grazie Paola. Grazie, grazie. Tra poco la sigla con Monica Sarnelli. Il nostro capitano, la gazzetta dello sport, Mimmo Malfitano. Da quest'anno fa parte la nostra famiglia, io ne sono strafelice, Carolina Morace. Ciao. Però, scusate, Peppe ti uso come leggio, scusatemi. No, un attimo solo, ve lo faccio salutare, però io stasera devo dire una cosa. Il Pampa ha avuto molte offerte televisive quest'anno, dalle televisioni della nostra regione, gli sono state fatte offerte economiche molto importanti. però ho capito che l'amicizia ha un senso e allora ti voglio ringraziare. Pampa Sosa! Pampa, vieni qua. La scena è tutta per te, vieni qua. Pampa Sosa! Il Pampa Sosa! Ha scelto Goal Show, è bellissimo, eh? Il Pampa Sosa! 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 L'ho detto l'anno scorso e nel darvi appuntamento al 17 ottobre ci ritengo a dirlo stasera. Sicuramente molte altre città e altre squadre hanno vinto tanti scudetti, ma una trasmissione così in un teatro non la faranno mai. Grazie! La sigla con Monica Sarnelli. Ci vediamo il 18 ottobre. Monica Sarnelli! Ci vediamo il 18, ciao! Il Pampa Sosa! Il Pampa Sosa! A Lazzarella Pampa Sosa! Il Pampa Sosa! Il Pampa Sosa! Il Pampa Sosa! Il Pampa Sosa! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.